benvenuti a nuovo episodio della volpe leone la commissione europea ha annunciato il suo recovery fund secondo i progetti si tratterebbe i 750 miliardi con una quota da 170 per l'italia tra fondo perduto e prestiti mutualizzati ipoteticamente dall'inizio del prossimo anno è tutto quello che luccica quali sono le condizioni e nel frattempo il mess è ancora sulla carta le sue criticità le sue condizionalità di tutto questo abbiamo parlato con luca ruggeri dirigente nel settore finanziario questo programma finanziario che diciamo è il corona la corona ciliegina sulla torta di questo grande piano di rilancio che dovrebbe essere varato da unione europea i giornali italiani lo descrivono come poderoso è il nuovo aggettivo che va di moda in questo periodo si dice che ci sono moltissimi miliardi disponibili per l'italia che avrà una fetta considerevole sia sotto forma di prestiti sia sotto forma di diciamo investimenti a fondo perduto ci sono un po di paletti devono essere utilizzati in un certo modo anche sui tempi ci sono alcuni dubbi ma anche approvazione definitiva però ecco pare che sia un grande risultato così viene descritto possiamo stare tranquille tutto va tutto bene o ci sono comunque degli aspetti che vanno tenuti d'occhio nei modi in cui si sviluppa questo fondo buongiorno daniele buongiorno a tutti coloro quali sono in ascolto la nuova iniziativa della commissione europea che riprende il piano Merkel-Macron ma ampliandolo in termini di dimensioni in effetti è stata presentata come un'iniziativa un game changer come dicono un grande cambiamento sia per gli importi 750 miliardi che si sono 540 miliardi del previsti attraverso il mess e la bay e sia per le modalità in estrema sintesi la commissione metterebbe titoli sui mercati finanziari internazionali per raccogliere le risorse titoli che sarebbero poi garantiti dalla dal budget in buona sostanza della commissione europea da questo punto di vista oggettivamente è comunque un passo avanti visto che abbiamo una consistente emissione di titoli in qualche modo mettendo in comune un nuovo debito se questo è l'aspetto indubitabilmente positivo questo recovery fund qualche tema l'oppone qualche perplessità non irrilevante l'oppone in primo luogo la materia del tempo è sembrata scomparire dagli schermi questo è un progetto ancorché tutti si si siano un po' dilettati per così dire a discettare su quanti miliardi di riverbole d'italia questo è solo una proposta dovrà essere approvata vedremo quali saranno i veri numeri ma al di là di questo è assolutamente chiaro che quei soldi ben difficilmente arriveranno prima del 2021 siamo già praticamente la prossima settimana giugno le imprese non hanno ricevuto di fatto nemmeno un euro e di assenza di liquidità si muore quindi questo tema diciamo passato un po sotto silenzio è invece un tema di grande rilevanza l'altro aspetto riguarda la il vero vantaggio in termini economici per l'italia diando per certo ancorché non siano in realtà i 172 miliardi dovuti e previsti per l'italia di cui un'ottantina in sotto forma di fondi a fondo perduto e gli altri invece novantine in termini di prestiti questi soldi però vanno in qualche modo vanno confrontati con le somme che l'italia è diversa al budget della commissione della nostra della nostra europa se si fanno quattro calcoli di fatto il vantaggio dell'italia sarebbero circa 25 miliardi in cinque anni non casualmente che per carità sono sempre un passo in avanti almeno a livello teorico rispetto alla posizione attuale dell'italia come contribuente netto ma non sembra un impatto così importante da giustificare gli entusiasmi non casualmente moncao sul financial times parla di un impatto di un mezzo per cento sul pil definendo troppo poco quindi abbiamo così lavorando su questa su quello che ad oggi è semplicemente una qualche slide consegnata alla stampa se possiamo dire possiamo vedere con favore un'emissione comune di titoli dall'altra il la tempistica non appare entusiasmante e questo probabilmente spiega il perché il famoso spread sul tra btp e bund non si sia poi in realtà mosso così tanto evidentemente gli operatori finanziari dopo un primo momento di entusiasmo hanno iniziato ad analizzare la cosa e non l'hanno apprezzata così come è stata presentata su gran parte dei mass media e poi abbiamo per l'appunto la tematica della di quale sia effettivamente il l'impatto a favore dell'italia in termini assoluti ripeto ben inferiore agli 80 miliardi apparentemente regalati che i mass media hanno indicato vi è poi da dire che il l'utilizzo di quei fondi sarà basato su una proposta del singolo stato alla commissione commissione che dovrà valutare la proposta e quindi verificarne l'effettiva applicazione in termini pratici vorrei dire che questi fondi saranno comunque sottoposti ad un'attenta analisi da parte della commissione che ne vincolerà la destinazione quindi non sarà possibile utilizzarli sulla base solo di valutazioni del singolo governo del tutto sganciate da ogni altra considerazione in questo senso le indicazioni che si rilevano dalla commissione fanno riferimento all'economia digitale e alla conversione verso un'economia green sono obiettivi assolutamente positivi assolutamente da guardare con favore vanno però calati nella realtà quindi ponendo che questo processo vada avanti ci si debba poi interrogare su dove andranno effettivamente i fondi va tenuto conto del rischio che buona parte della svolta green finisca per sostenere la riconversione di alcuni settori tipicamente l'automobile che in questo momento sconta da una parte la crisi del covid ma anche un cambio strutturale con un passaggio con l'abbandono della tecnologia diesel e il passaggio in buona sostanza all'elettrico non casualmente infatti in questi giorni Macron ha annunciato un piano miliardario a sostegno dell'economia della produzione automobilistica francese gli stessi problemi che peraltro prevede comunque un taglio del personale gli stessi problemi avrà anche anche la parte produttiva tedesca alla quale noi siamo comunque legati visto che i principali sub fornitori per l'economia per la produzione automobilistica tedesca sono italiani quindi anche sull'aspetto di utilizzo dei fondi bisognerà comunque fare attenzione per evitare che di dover finanziare un budget che poi viene utilizzato principalmente a favore di altri ricordo infatti che non è obbligatorio per lo stato per il singolo stato di chiedere i fondi europei quindi deve presentare un progetto con degli investimenti ma la presentazione è volontaria quello che è meno volontario è il contributo al budget europeo che invece vi dovrà essere quindi c'è il rischio di un aumento di dover comunque questionare sul budget europeo argomento delicato che non ha visto trovare un accordo dopo l'uscita della Gran Bretagna e inoltre altro aspetto interessante è la previsione di tassazione a livello europeo per sostenere questo piano tassazione che però troverà qualche difficoltà applicativa per esempio viene citata la tassazione sui giganti del web è noto a tutti che questi operatori finanziari massimizzano per così dire la loro gestione fiscale e quindi di tasse ne pagano veramente poche se l'obiettivo è valido è positivo bisognerà vedere i tempi e i modi per ottenerlo quindi abbiamo in estrema sintesi un'iniziativa che presenta sì un aspetto positivo di di diciamo messi in comune di alcuni debiti e che quindi per quanto riguarda l'Italia vuol dire una previsione sui mercati in via mediata a un tasso più basso di quello che otterremo d'altro canto però i tempi non saranno brevi la ripartizione dei fondi con ogni probabilità non sarà così buono come viene sventolata e poi ci saranno i problemi applicativi sugli investimenti da presentare sui controlli che la commissione effettuerà e anche sulla nostra capacità poi di utilizzare i plenari quindi un quadro non così ovvio come viene presentato un quadro che si ha degli aspetti positivi ma presenta anche più di qualche criticità cioè in sostanza l'Italia da andarci in perdita finanziariamente con l'Unione Europea dal prossimo anno potrebbe andarci leggermente in positivo nel migliore dei casi perché questo è comunque lo scenario migliore poi ci sono come dicevi tutti questi vincoli sul modo in cui vanno spesi la certezza che rimane che invece bisogna comunque finanziare questo recovery fund che quindi ci saranno da qualche parte verranno presi dei soldi in più quindi diciamo la notizia è buona, ha anche i suoi risvolti non totalmente positivi e in ogni caso non andrebbe forse presa in quella maniera trionfalistica con il quale viene ora vissuta e poi la questione tempistica è fondamentale perché anche ponendo che il recovery fund vada nel migliore dei modi, che si riveli uno strumento utilissimo che l'Italia riesca poi a spendere in maniera molto efficiente questi soldi per interessi propri non come mettevi in guardia per interessi di industria di altri paesi rimane il problema però al 2021 bisogna arrivarci e la situazione qui è molto pesante ne accennavo all'inizio e quindi si fanno sempre più insistenti le voci e del resto proseguono da tempo malgrado le smentite dalle parti del governo in particolare da Palazzo Chigi di un possibile ricorso al MES il meccanismo europeo di stabilità di cui tu hai scritto diverse cose proprio per il nostro centro studi rimando in particolare c'è un tuo report che si trova nel nostro sito è stato anche presentato alla Camera con l'ex viceministro dell'economia Massimo Gravaglia nel frattempo alcune cose sono cambiate c'è questa prospettiva di ricevere dei prestiti pare senza condizionalità limitati alle spese sanitarie comunque sono una componente non trascurabile anche qui effettivamente possiamo fidarci che non ci saranno condizionalità andare a prendere questi prestiti per spenderli in un settore molto importante ma comunque diciamo non produttivo di per sé in cui dunque poi non permettono di avere un ritorno per ripagare questi prestiti sul MES qual è la tua opinione? Sarebbe opportuno o per adesso le incognite sono troppe rispetto ai possibili benefici? E' interessante che il MES sia tornato argomento di attualità perché conferma di fatto quello che si diceva sulla tempistica del recovery fund se avessero la convinzione che i soldi del recovery fund siano tra virgolette in arrivo non avrebbe molto senso interrogarsi sul MES invece avendo ben presente questa tematica dei tempi il MES appare apparentemente una soluzione diciamo di più facile attivazione sul MES è stato scritto molto e è stato detto di più ad oggi il famoso progetto di riforma del MES è morto a dimostrazione del fatto che non era idoneo in una situazione di crisi e quindi non se ne parla più quindi abbiamo il MES versione 2012 un trattato internazionale al quale abbiamo partecipato come in vari stati apportando parte del capitale del MES stesso il MES sulla base della nuova linea pandemica vedrebbe un intervento massimo a favore dell'Italia di 36 miliardi anche qui molto entusiasmo sui media ma ricordo che questi 36 miliardi non sono 36 miliardi a fondo perduto per fronteggiare la crisi del coronavirus ci sono 36 miliardi di finanziamenti quindi 36 miliardi da restituire indicativamente in una decina d'anni poi i dettagli dipendono dalla proposta e dalla delibera del board del MES comunque una decina di 36 miliardi raccolti sui mercati e prestati all'Italia per circa una decina d'anni l'unico vero vantaggio del MES in questo senso è il tasso il MES ha un rating molto elevato in questo momento i tassi sono molto bassi quindi si approvvigionerebbe a qualcosina meno in area negativa contando le commissioni e le ricariche del MES saremo poco sopra lo zero come tasso quindi un tasso effettivamente basso rimangono vari temi da una parte l'ultima emissione di BTP BTP Italia ha raccolto in brevissimo tempo 22 miliardi certo ha pagati l'1,4 però dimostra che l'Italia con la BCE che è operativa riesce ad approvviginarsi a tassi interessanti mentre l'intervento del MES avrebbe da una parte come unico vantaggio un tasso un pochino più basso rispetto a quello che potremmo spuntare con i BTP dall'altro però ricordo che l'impatto di stabilità non è stato cancellato è stato semplicemente sospeso finita la crisi torniamo ai vecchi sistemi e trovarsi con 36 miliardi di debito nei confronti del MES non costituirà una posizione di forza per così dire in sede di trattativa europea quindi non appare così entusiasmante come la prospettiva la riprova è data dal fatto che nessun altro paese a parte forse Cipro è intenzionata a attivarsi nei confronti del MES certo si può dire che noi ci approvvigioniamo a un tasso più alto rispetto a Francia, a Portogallo certo che se l'iniziativa fosse così interessante la Grecia, tanto per dire un nome, magari ci potrebbe pensare invece in realtà lo strumento viene guardato con molto ma molto cautela e l'esperienza greca che è una cosa ben insegnata un po' a tutti non sembra quindi uno strumento francamente così interessante c'è poi un tema di effetto stigma come viene chiamato cioè il timore che utilizzando questo strumento in qualche modo si autocertifichi la propria situazione di difficoltà finanziaria prestando il fianco ai speculatori e a chi potrebbe farci del male spostiamoci un attimo sul campo invece delle iniziative del governo italiano c'è stata una questione che ha fatto molto discute essenzialmente per il caso FCA mi sto riferendo alle garanzie statali sui prestiti per queste grandi aziende un dettaglio della legge ha fatto stracciare in naso a qualcuno nel senso che viene giustamente direi proibito a chi beneficia di queste garanzie sui prestiti di distribuire dividendi o riacquistare le proprie azioni però d'altro canto questa limitazione vale soltanto perché ha sedi in Italia quindi il problema è per tutti quelli che hanno invece sedi all'estero sono tanti perché con gli attuali sistemi fiscali l'apertura dei confini eccetera molti trovano vantaggioso porre le proprie sedi altrove questi che già sono stati poco patriottici nel spostare le sedi all'estero sono adesso anche favoriti rispetto a coloro che invece hanno mantenuto le sedi fiscali in Italia quindi in questi anni continuato a pagare le tasse in Italia cosa ne pensi? oggettivamente il caso FCA ha fatto un po' alzare qualche sopracciglio anche in relazione al fatto che ha atteso un divinendo straordinario in vista dell'operazione con Peugeot peraltro prima avevamo citato Renu che doveva essere l'altro salvatore di FCA e pur con una presenza consistente dello Stato ha appena chiesto di essere ulteriormente sostenuta per evitare di finire gambe all'aria il divieto di distribuzione degli utili in effetti opera di fatto solo in Italia e sarebbe molto complesso andare a perseguire società all'estero ci sarebbe un problema di enforcement come si dice detto questo credo che come fanno peraltro anche i nostri cugini d'oltre Alpe sarebbe quantomeno opportuno vincolare questa garanzia al mantenimento dell'attività la non delocalizzazione e poi la successiva verifica che effettivamente gli impegni vengono mantenuti non è una soluzione eccezionale siamo d'accordo in questo caso però soprattutto in questo periodo credo che la prima assoluta priorità dovrebbe essere la tutela del nostro patrimonio industriale cioè la capacità di produrre e i relativi posti di lavoro anche se sì, perché in questo momento rischiamo una parita di capacità produttiva ricordo che la crisi del 2008 ci ha costato quasi un quarto della capacità produttiva e da quella crisi di fatto non ci siamo mai del tutto ripresi non abbiamo mai del tutto recuperato in questo momento quindi pur portando subottimare quella soluzione forse bisognerà tapparsi il naso e cercare di procedere mi rendo conto che non è una gran soluzione però ripeto il paese ha bisogno di non perdere capacità produttiva di non perdere posti di lavoro perché non è arrivato granché alle imprese e finito il blocco dei licenziamenti e la ripresa di settembre credo che emergeranno i dati e vedremo quali sono le corrette previsioni economiche cioè quanto questa crisi avrà in prima battuta inciso sulla carne del paese sì, si parla spesso sempre della situazione del debito pubblico grave assolutamente poi non va dimenticato che però la vera ricchezza di una nazione sta nella sua capacità produttiva e appunto di provvedere a quelle che sono il suo popolo, la solidità della sua economia grazie mille Luca per questa analisi sintetica ma completa dei progetti che ci sono in essere ti ringrazio e ci risentiamo sicuramente a presto grazie a voi